e ciao a tutti eccoci in questo nuovo video di Clash Royale oggi vedete questa icona qui perché ora l'apriremo e siamo su Stats Royale e andando ai bauli come vedete qua next dice d'argento però non è aggiornato bene perché diceva dopo quello d'oro 3 d'argento quindi 3 d'argento li ho trovati quindi come vedete bauli super magico e bauli magico poi tra 216 leggendario e 357 epico e quindi oggi li andremo a trovare perché direi che funziona l'ho visto già da altre parti quindi possiamo subito dopo aver donato questo mini pecca procedere sarà il mio secondo baule super magico perché quando avevo smesso di fare video poi l'avevo trovato un baule super magico che appunto siccome avevo smesso di fare video non ho fatto vedere mentre l'ho aprivo però oggi siamo qui per trovarlo ti assicuro che Stats Royale funziona perché l'ho visto già usare da tanti altri e quando lì doveva capitare quel baule l'è capitato poi lo assicuro che funziona perché io sto seguendo sempre ciò dei bauli appunto se no non sapevo che oggi avrei trovato il baule super magico ora facciamo andare il domatore già di nuovo i barbari è difficile se questo usa sempre i barbari però oddio le sprecate bombertizio bombertizio sei un bombertizio e c'ha pure quello schifo però ecco ce l'abbiamo fatto più danno dall'altro lato ma voglio capire com'è possibile sta cosa e c'hai di nuovo i barbari vero? mettili ora per favore no non li metti ehi da qua difendo no che schifo no non si può no 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 impossibile proviamo a vincerla ma la vedo difficile mannaggia e si poi c'ha il tronco poi c'ha le frecce ecco le frecce era proprio impossibile questo tizio va bene io farò un po' di partite naturalmente se le perdo alcune credo che taglierò qualcosa per forza perché già una l'abbiamo persa quindi almeno una che perdo spero che le altre due le vinco così metto proprio tutto spero eh di vincere queste due così magari mi dai quei due bei bauli e siamo tutti contenti no quello non ha dato nemmeno un colpo va bene c'era di livello 7 quindi non è proprio un problema eh no però dai che odioso mi riesco a fare un po' di danno a questo principessa ah danno danno finalmente 1998 ok ok si bravo lui c'ha due principi la riete vabbè abbiamo l'orda di scheletri l'orda di scheletri figurati se non riesco a contrastarlo mette un principe bello toglie tutta la cosa eh no eh si bravo la cura e mo che c'è risolto con sta cura spiegamelo hai spiegamelo ha colpito l'altro che bello per poco che bello allora manca poco a quella torre però lui naturalmente continua a mettermi roba e non si fermerà sicuro no madò che fortuna che ho avuto si no per pochissimo vai fallo colpisci buona ok no ok niente ok niente si li ha fermati che bombe si ci siamo quasi per il baule super magico ci siamo vai vai a fare la torre attenzione attenzione baule super magico vamo 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 si grandissimi vamo ed è nostro il baule super magico eccolo qui è nostro grande grande e andiamoci a fare l'ultima che devo vincere per forza così ci troviamo anche il magico ed è qualcosa di magico no brutto no non me li picchi volevi farlo così mi volevi già fare una torre eh no non si fa bene 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 no meglio non metterlo perché c'è il bombarolo lui allora io provo proverei di barbari scelti quello intanto gli ha tolto tipo metà vita lui anche ce li ha eh però te li faccio prima fuori eh lui e lei lui e lei vai sì grande eh mannaggia eh no 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 eh ci fa la torre bello sì ci fa la torre ok facciamo questa cosa l'ha fatta perché di là mette i barbari scelti di qua mette quel coso sì è pericoloso comunque ma almeno ce la caviamo un po' meglio ok non so se si farà fregare di nuovo non so nemmeno se mettere l'orda di scherri perché lui non la può contrastare scarica no l'abbiamo persa non so era bellissimo baule magico baule super magico insieme però direi che lo trovo per forza lo devo trovare per forza in questo episodio sempre lo voglio trovare ok siamo ancora qui e quindi questa è l'altra parte che unisco al video e quindi partiamo subito a cercare questo bel baule magico che prima le ho perse alcune partite quindi siamo riusciti a trovarle ma le taglierò quelle e io appunto sto facendo ancora quest'altra parte per cercare perché voglio fare un unico episodio baule magico e super magico trovati ed è epico ah no uguale a quello di prima se vi ricordate se andate cioè proprio sempre nel video ce n'era c'era un altro notizio uguale cioè c'è proprio tipo lo stesso deck credo tipo me lo facciamo malissimo ecco è morto pure un draghetto mi sa che gli facciamo la torre ok torre fatta quindi speriamo bene ok vanno di là bene così ci assicuriamo se ne la facciamo un'altra torre anche ed è meglio ancora così facendo un'altra torre diciamo che ci assicuriamo anche già quasi la vittoria eh sì però mo inizio a mettere il deck spawn che mi ammazza male a me il deck spawn questo non è proprio un deck che può andare contro il deck spawn il mio no dai ma sicuro guardate quanta roba mi inizio a mettere guardate ok le abbiamo picchiata non andare lì quant'è stupida non mettermelo di nuovo ti prego sì torre fatta è andata giù attenzione vediamo se è vero che lo troviamo vediamo se è vero perché se mi ha trollato mi arrabbio ed ecco il baule magico incredibile baule super magico e baule magico nello stesso video nello stesso episodio di fila guardateli qua che belli e farò un video pazzesco in cui li aprirò e quindi se vi è piaciuto questo nuovo video iscrivetevi e lasciate un like ci vediamo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Perfett, perfett, perfett It's just perfect Perfett, perfett, perfett I'm perfett